ciao a tutti sono francesco berini e bentornati nel mio canale oggi voglio condividere con voi quest'opera d'arte costruita dalla più famosa fabbrica americana ovvero la con che anche quella che maggiormente ha contribuito con il quantitativo di strumenti e la loro qualità a creare il mito dello strumento che tutti amiamo cioè il sassofono ma prima di addentrarci nella recensione nella presentazione di questo meraviglioso strumento volevo ricordarvi di iscrivervi al canale qualora non lo abbiate già fatto di mettere un bel like al video condividerlo qualora riteniate che i contenuti lo merichino e magari splittare anche la campanellina di modo da rimanere sempre aggiornati con i nuovi video che man mano andrò a caricare ma andiamo avanti detto ciò eccolo qua stiamo parlando di un uno strumento datato 1925 e che rappresenta come il mondo pre crisi del 1929 fosse un mondo che puntava quantomeno a un certo tipo di opulenza stiamo parlando del con virtuoso alto full pearls deluxe uno strumento completamente placato oro sia internamente che esternamente e si ragazzi non è ottone non è una laccambrata bensì è oro ovvero un bagno galvanico di oro l'incisione anche per essere un artist è veramente in questo caso esagerata al limite del pacchiano è inciso ovunque inciso internamente alla campana sulla campana esternamente possiamo vedere il classico ritratto della donnina a nouveau ad opera dei dei fratelli steinberg che hanno reso appunto famosa la con per le loro incisioni anche la culatta i motivi floreali continuano ovunque incisa ecco questo era un classico riquadro dove si indica la matricola e low pitch del con il classico riquadro liberty incisi sono anche i piattelli delle chiavi esternamente addirittura con questa scacchiera veramente particolare tutto il fusto inciso e inciso è anche il kiver su ambo i lati quindi veramente parliamo di uno strumento pazzesco full pearls full pearls perché perché ogni punto dove voi appoggerete le dita per poterlo suonare è in madre perla abbiamo la madre perla sulle laterali sul tasto del portavoce le palmarie le laterali qua sotto mi bemolle grave do grave tutto madre perla ovviamente i roller sono in madre perla autentica come tipico della serie con questo caso con chuberri che fondamentalmente come abbiamo già detto in altri video l'artist è un chuberri ma di particolarità ha il fatto appunto di essere veramente lavorato in in maniera maniacale in in tutti i punti appunto raggiungendo veramente un canone estetico altissimo è uno strumento estremamente raro me ne era capitato uno anni fa se non ricordo male databile 1927 per questo ho voluto filmarlo e condividerlo con voi condividere questa meraviglia del mondo del sassofono e se ve ne capita uno per le mani beh siete veramente fortunati e tenetevelo tenetevelo stretto ok per questo per oggi è tutto grazie per avermi seguito alla prossima ciao ciao